Partita che è stata veramente una partita tosta, dove sapevamo incontrare Bergamo che veniva da una vittoria contro il 100 importante, hanno recuperato tutti i giocatori, quindi si presentava completo e noi siamo stati sempre ad inseguire. Abbiamo avuto delle buone opportunità di tiro, purtroppo non sfruttate, siamo tornati in partita anche verso la fine, poi abbiamo commesso qualche errore difensivo prendendo dei canesti a tre punti che ci hanno tagliato le gambe. Io volevo vincere questa partita e credo altrettanto ai giocatori, quindi non è solo un passaggio, è importante per vedere non solo come siamo ma per fare un passo in avanti. Credo che dobbiamo rivedere gli errori commessi a velo difensivo, abbiamo preso tre canesti allo scadere allo stesso modo, non rispettando le regole. Allo stesso tempo posso dire che tutti i giocatori hanno dato quello che avevano, è ovvio si può giocare bene, si può giocare male, però non c'è stato nessuno che ha dato in meno. Può nascere una bella partita come una brutta partita. Merito a Bergamo che stanno giocando bene, complimenti e noi c'è tanto da lavorare ma questo è anche il bello del basket.